Preside Sirona all'Istituto Telese Prima Campanella, il 10 settembre dunque siamo pronti ad iniziare un nuovo anno scolastico. Quali gli obiettivi e le finalità di una delle eccellenze dell'Isola Dischia? Sì, noi stiamo lavorando a gran lena per aprire la scuola in migliore condizioni. Abbiamo completato la progettazione PNRR per quanto riguarda i laboratori, quindi i ragazzi troveranno i nuovi laboratori di informatica, di scienze, tutti i nuovi laboratori di cucina e di sala, laboratori di accoglienza, laboratori di grafica, perché questo aspetto per noi è centrale, per i nostri ragazzi che devono costruire quel profilo che chiamo di professionalità accolta, che è lo scopo finale del nostro lavoro. Ci auguriamo che tutto questo lavoro venga apprezzato, che nei primi giorni noi ci occuperemo dell'accoglienza, perché le classi prime entreranno il 12, in modo che sia i ragazzi, gli studenti, le studentesse che le loro famiglie troveranno poi tutto come è nostra tradizione pronto per l'accoglienza, per conoscere bene la scuola, i suoi spazi, le sue iniziative. Ecco, quest'anno affrontiamo di nuovo l'argomento della carenza delle aule, con il quale si è chiuso anche lo scorso anno. Speriamo che questo anno si faccia qualcosa di concreto. Sì, ho qualche repressità, nel senso che ormai dopo tanti anni che non sono riuscito, non dico a risolvere, ma a pensare una soluzione, che già sarebbe per me molto, non posso nascondere una grande dose di scetticismo personale. Ma come dirigente il mio compito è quello che sarà sempre e comunque quello di insistere, perché io trovo veramente uno scandalo che su un'isola come Ischia, che ha una vocazione turistica e dell'accoglienza, che vive di questo, la scuola che forma i professionisti, che devono andare a lavorare negli alberghi, nelle strutture ricettive, non abbia una struttura che dal punto di vista degli spazi sia adeguata, anche per fornire alla isola le necessarie competenze e professionalità. Noi abbiamo lavorato molto e posso dire con soddisfazione che tutte le persone che entrano a scuola dicono che è una scuola molto bella, molto accogliente, curata anche nei particolari. E questo ci riempie di orgoglio. Ma nello stesso tempo però il fatto che continuiamo ad avere i doppi turni, le rotazioni e orari così pesanti, io mi sarei aspettato che non dovrebbe essere solo il preside e il dirigente scolastico, ma imprenditori e famiglie che marciassero sulla città metropolitana per chiedere che ai nostri figli e ai futuri lavoratori del settore sia garantita la necessaria dignità di fare i propri studi.